Musica Musica Ah, slamato! Sì. 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 Non lo so. Da come tira sembra. Comunque poi ti dico. Anche testate un po' strane però eh. Cosa ti ho detto? Che è tremendo questo qua. Mi sa che è il fratello del tuo questo eh. Ma. Ma. Da come tira. Non l'ho visto eh. Ma da come tira. Da come tira. Da. Da testate. Non lo so eh. Comunque. Adesso vediamo. Comunque tremendo il lombrino eh. Tremendo. Guarda quanti più movimenti la sotto. Uno è saltato lì. Un altro. Adesso andiamo giù a piedi. Eh vai giù qua eh. Tanto mi arrangio da sole. Meno che non sia. Enorme. Sembra proprio un siluro eh. Ehi. Sì. 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 Però insomma. Speriamo di tirarlo fuori perché. Il tuo. Tiriamo. Ricopriamo la Gianna. E che c'è qualche sasso qua sotto. Lo sento eh. Ehi. 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 Qui c'è anche porcheria cazzo. Qui c'è porcheria. Vai lontano. Dai. Eh qui mi sa che mi serve una mano eh. Se riesco a tirarlo fuori. No. Perché non è proprio. Non mi sembra proprio piccolo piccolo. Oh prima passata che facevo qui. Perché prima avevo tentato con la testina da cinque grammi. A. A farlo rotolare sul fondo. Ma era troppo. Allora poi mi son detto. Adesso provo a scendere. Ho messo su due sette. E l'ho fatto scendere con la corrente. Eh. Abbi pazienza ancora un attimo. Un è che. Non so. Ci sta? Il guadino. C'è l'ascensore. No devi andare più su. Più a monte. Poi vieni giù facile. Ci sono i sei. eh però adesso sta cedendo adesso sta cedendo si ci sta però devi farlo entrare mi sa è di più questo aspetta 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 ecco ah le zanzare anche anche le zanzare ma ce n'è un altro che gli gira intorno ma ho avuto una ho avuto una ok bravissimo grazie Michele lascelo lì lascelo in acqua grazie si però le dimissioni sono più o meno quelle occhio eh occhio che sono bastardossi bastardissimi questi c'è tutto ma si dai cappotto salvato no c'è sul 24 dai almeno il 24 concedimelo wow io anche adesso si incazza facciamo una foto grazie ad analchipresù la foto lascio dentro sì si tremendo ieri ti ho detto c'è un posto dove si sono riuscito a sbagliarmi a farmi rompere è stato forte perché è piccolino sto posto è un fossetto largo così soltanto che è un po' incassato e alle rive aspetta che spegno grazie